Ciao, sono Elisabetta Minursi, insegnante di modellistica e sartorialità da parecchi anni. Ho insegnato presso la mia scuola e presso istituti privati e statali e alla facoltà di Lettere e Filosofia presso l'Università di Trieste. In questo secondo video, che ho preparato per consentirti di valutare i contenuti dei nuovi testi, ti presento Tecnologia della Modellistica, un manuale nel quale fornisco le conoscenze necessarie per affrontare lo studio della materia supportata dalla squadra calcolatrice. Questo testo espone in modo progressivo un metodo di progettazione collaudato negli anni per la realizzazione di modelli base personalizzati per la figura femminile. L'abbinamento al regolo brevettato squadra calcolatrice consente di costruire velocemente i modelli base con una vestibilità perfetta, risparmiando tutte le suddivisioni delle proporzioni necessarie perché già incluse nello strumento. Descrive le tecniche della modellistica e relativi sviluppi con un linguaggio agile ed accessibile fondato al tempo stesso su rigorose basi tecniche, percorre tutte le tappe dell'apprendimento per la costruzione di cartamodelli base. Nell'edizione di questo manuale ho tenuto in considerazione la richiesta di qualità del settore sartoriale e ho cercato di fornire le conoscenze necessarie per affrontare lo studio della materia. La chiarezza dei termini, la molteplicità delle immagini e grafici esplicativi si propongono di favorirne l'immediata comprensione rendendo questo testo uno strumento didattico fruibile da chiunque voglia intraprendere questa strada per passione o per motivi professionali. Seguendo le lezioni progressive di questi due nuovi libri supportato dalla squadra calcolatrice per un apprendimento efficace e funzionale in autonomia risparmi anni di scuola e le varie nozioni rimangono a disposizione consultabili ogni qualvolta tu ne senta la necessità. Grazie a tutti.